Interrompe la striscia negativa delle quattro sconfitte consecutive lo Sporting di Catanzaro Lido di Mr. Patti che nell'anticipo della sesta giornata del campionato di prima categoria Girone B impatta contro Sillanum squadra del tecnico Burgo allenatore giocatore in campo con il numero 10 eppure anche questa volta si è ramassa male per la squadra marinara che si era trovata in svantaggio per il gollo segnato dalla squadra Cosentina alla quindicesimo al primo tempo con Bianco e che poi aveva fallito anche un calcio di rigore quando al trentasettesimo l'attaccante Melissari riesce a trovare il risultato del pari che fa concludere questa partita sul 1-1 finale. Un secondo tempo abbastanza nervoso che in pratica non ha detto nulla di più sul punteggio finale che ha lasciato le cose così come sono consentendo alla squadra Cosentina di restare nella zona medio alta della classifica portandosi a 9 punti e allo Sporting invece di muovere questa classifica portandosi a 4 punti e cercando di rimanere un pochettino lontano da quell'ultimo posto che come sappiamo è la posizione purtroppo che porta alla retrocessione diretta nella seconda categoria. Si spera che da questo pareggio la squadra cadanzarese possa risalire per mantenere questa categoria con i giocatori che effettivamente anche se oggi informazione rimaneggiata possono dare la possibilità appunto al tecnico Patti di riuscirci.